Mezzo miliardo di euro ed è solo la prima stima dei danni di questo alluvione, un dato che emerge dal dossier estilato dalla Giunta regionale inviato a Roma dal Presidente Luca Zaia, che ha scritto anche una lettera a tutti i deputati veneti affinché facciano fronte comune per ottenere necessario per le famiglie colpite dalla calamità naturale. Sono 130 i comuni colpiti da lagamenti e frani, un'emergenza quella del maltempo in Veneto che ha riguardato anche la montagna con la bomba di neve e il litorale con le tonnellate di rifiuti spiaggiati. Eppure il Presidente del Consiglio, Enrico Letta, ha detto a Zaia che i soldi non ce ne sono. Questo è tutto da dimostrare, abbiamo già redatto un primo dossier che ho inviato proprio questa mattina a tutti i parlamentari del Veneto. La prima cifra, che sarà sicuramente più alta, ipotizzata, è di 500 milioni di euro, più di 130 comuni e la necessità di fare veloci perché abbiamo danni da nord a sud, da est a ovest del Veneto. Cosa può fare la Regione in termini di soldi? La Regione ha già stanziato 2 milioni di euro proprio oggi in giunta. Dico anche che la stessa opposizione che oggi dice queste cose, nel 2010, siccome il governo era mio amico, cioè era del mio colore politico, diceva vai a Roma dai tuoi a battere cassa, basta che si mettano d'accordo tra di loro.